Giuseppe Scrafani continuano le polemiche su questa classifica del Carnevale di Sciacca lei fa parte dell'associazione Orali Femmi Tu è un costruttore di carri ha partecipato con il carro della bufala che è stato proprio al centro anche di queste polemiche lei ha ascoltato nuovamente ieri le affermazioni del giurato Giuseppe Barcelona che idea si è fatto? partiamo dal presupposto che secondo me Giuseppe Barcelona è un grande e secondo me è una risorsa per il Carnevale di Sciacca il prossimo anno gli dovrebbero far fare almeno il direttore artistico di questa festa perché a livello di cultura tanto di cappello dopodiché sono delle dichiarazioni forti che comunque non rimango più di tanto sorpreso nel senso che si sapeva già che c'era sta cosa già dopo l'apertura delle busse si sapeva e comunque noi carristi lo sappiamo da una vita che ci sono queste cose però adesso la macchina nel sistema è stata quasi distrutta quindi dobbiamo andare avanti e lottare per questo perché noi vogliamo un Carnevale pulito e lottando si può avere un Carnevale pulito qualcuno potrebbe obiettare che lei comunque pensa che le dichiarazioni di Giuseppe Barcelona siano insomma importanti e che lei lo ritiene fondamentale addirittura vorrebbe che il prossimo anno avesse un ruolo maggiore nell'organizzazione del Carnevale perché magari è stato insomma benevolo nei vostri confronti ha premiato molto il gruppo della bufala ha apprezzato il carro insomma lei deve rispondere in questa maniera a Barcelona va bene perché va a vostro favore o no? Cosa ha detto di sbagliato? Ha detto quello che ha detto il popolo che il carro più bello niente togliendo agli altri perché erano cinque bellissimi carri il carro più bello era quello della bufala ma non l'ha detto solo lui c'è stata un'altra giurata quella che è caduta dalle nuvole che non sapeva niente alla classifica speriamo che non si è fatta niente quando è caduta dalle nuvole eventualmente noi abbiamo gli infermieri nell'associazione quindi casomai non ci sono problemi questa giurata ha detto che ha parlato del carro della bufala ma perché ha parlato solo del carro della bufala perché la bufala doveva vincere perché non ha parlato dei movimenti del carro del saranno famosi che sono erati quarti e perché non ha detto che i primi e i secondi classificati di movimenti giravano avevano un movimento rotatorio uno di 90 gradi e uno di 180 se non sbaglio e quindi in centro nemmeno si muovevano questi carri perché non sono stati penalizzati loro e hanno penalizzato la bufala Lei ovviamente io lo dico si riferisce alla giurata Martina Ciaccio non sapevo come si chiamava Ok, lei cironizza sopra ma noi siamo convinti che voi conoscete tutti i giurati tranquillamente Io non li conosco ve lo assicuro io non li conosco qua c'è il mio telefono lo posso far vedere pure come ieri è successo a sto siparietto il mio telefono è pulitissimo lo possono controllare quando vogliono Bene, al di là di questo voi è uno dei firmatari della lettera inviata alla sindaca la sindaca ancora vi deve rispondere siete in attesa voi chiedete l'annullamento chiedete altro rispetto a quello che è stato detto No, noi vogliamo la pulizia del carnevale semplice vogliamo che il carnevale diventi pulito finalmente adesso che c'è sta bomba che è scoppiata puliamo sto carnevale io la colpa non la do all'amministrazione anche se l'amministrazione ha le sue colpe è la sindaca che ha fatto questa giuria quindi lei deve rispondere ma magari siamo in quaresima per ora quindi aspettiamo la fine di Pasqua il problema io la colpa principale la do ai giurati soprattutto ai giurati saccensi perché i giurati saccensi quasi tutti visto che Barcelona si è messo da parte quasi tutti i giurati saccensi hanno dimostrato di non amare il carnevale facendo queste scelte un'altra domanda l'assessore Tulone ha fatto questa proposta voi carristi nella giuria del carnevale lei che ne pensa? è un genio risponde come Barcelona eh sì perché non ha senso ci ha detto tutto non ha senso che io voti il carro di Cucchiara ad esempio o il carro di Leone cioè è normale che voti il mio carro per me il carro è più bello almeno che non lo dice il popolo è 70.000 persone questa era una piccola parentesi secondo me la giuria deve essere formata da ex carristi io l'ho sempre detto ci sono persone posso fare nomi perché Franco Amato che è stato il primo movimentista nel carnevale di Sciacca che ha portato innovazione al carnevale di Sciacca non può fare il giurato del carnevale di Sciacca e mi deve fare il giurato una che cade dalle nuvole che non sapeva nemmeno chi aveva vinto la classifica come era stata così stravolta questo io mi chiedo perché un Franco Amato ma ce ne sono tanti nomi ex carristi Flavia Verde per i gruppi ma tante altre persone non ci possiamo mettere a fare tanti nomi però è la verità un'ultima domanda lei ha sentito all'intervista Vincenzo Cucchiara che è un suo collega dell'altra associazione ha detto che ha deciso di non di non firmare insomma quello invece la lettera la quale hanno delito tutti gli altri tranne ovviamente il vincitore indirizzata alla sindaca lei come ritiene questo fatto non pensa che manca un po' di solidarietà anche tra di voi carristi giusto il suo spirito di competizione ma una volta finita la festa allora Vincenzo Cucchiara lo saluto innanzitutto è pure mio compare non è pure mio collega quindi c'è altro al di fuori del carnevale il problema è che non è stato chiamato e lui non avrebbe firmato perché lui ha vinto lui ha festeggiato assieme ai vincitori con tante di foto su facebook col terzo e quarto posto quindi hanno vinto loro hanno festeggiato la vittoria per loro il secondo posto è stata una vittoria quindi per loro la classifica era giusta e poi la vittoria e poi la vittoria è stata una vittoria la vittoria